L'Arezzo Calcio Femminile infila la terza vittoria consecutiva in campionato e batte 2-0 il Trento al Comunale grazie ad una doppietta di Costanza Razzolini, sempre più capocannoniere della squadra Maranto. L'obiettivo dei 10 gol è stato raggiunto, adesso ci mettiamo sempre un obiettivo più alto per alzare l'asticella e mantenere sempre alta la concentrazione, 15-20. Dopo la vittoria interna con il Chiavo e quella in trasferta sul campo della Sassari-Torres arrivano dunque altri tre punti fondamentali in chiave e salvezza dopo una partita, quella con il Trento mai in discussione. Oggi è un risultato importante, era necessario proprio perché quest'anno avevamo veramente bisogno di questa svolta e finalmente è arrivata. La squadra merita, merita questo risultato e non solo oggi ma anche in altre occasioni, però per alcune circostanze non avevamo chiuso con i tre punti. Ecco, queste ultime tre partite rappresentano un po' invece i valori della nostra squadra. L'Arezzo Calcio Femminile sale a 26 punti in classifica mettendo ben 7 punti di distanza dalla zona rossa. Le ragazze sanno che c'è bisogno di fare tanto sacrificio, di correre, di rincorrere, di lottare, di fare tutto quello che serve per ottenere un risultato così importante. E perciò ancora lunga, lunghissima, dobbiamo rimanere sul pezzo e poi quando sarà finito e quando il risultato sarà ottenuto, con certezza allora ci potremmo rilassare e godere questi momenti. Le ragazze a Maranto infine sono scese in campo con un segno rosso sul volto e il lutto al braccio, un messaggio di vicinanza a tutte le donne vittime di violenza. La società qualche giorno fa aveva anche partecipato alla fiaccolata in memoria di Sare Brunetta, le due vittime del duplice omicidio di via Benedetto Varchi. Come ACF Arezzo abbiamo voluto aderire a questa iniziativa per ricordare Sare Brunetta, due donne di Arezzo che sono state vittime di femminicidio in questi ultimi periodi. Siamo sempre state vicine a queste tematiche, collaboriamo, siamo vicine a Pronto Donna, a tutti questi tipi di associazioni. Siamo state anche mercoledì alla fiaccolata, perciò questo simbolo per noi è importante. Abbiamo fatto anche la foto alla panchina rossa per essere sempre vicino a questo tipo di tematiche. Grazie a tutti.